Piano dei rifiuti via l'adozione, no compatto, dell'opposizione. Approvato il bilancio consolidato della Regione. Tutto pronto per la Casentino Bike, in programma domenica 8 ottobre. Via Libera, l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Lo ha deciso il Consiglio regionale della Toscana, che mercoledì, con il sì della maggioranza e il voto contrario dell'opposizione, ha aperto l'iter di approvazione del cosiddetto piano dei rifiuti. Tra le novità più importanti, la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti intenzionati a realizzare, a modernare, potenziare o mettere a disposizione impianti di riciclo e recupero di rifiuti urbani. Le proposte pervenute nella previsione di questo piano erano 42. Di queste 42 noi abbiamo riscontrato nell'analisi che è stata fatta da un punto di vista tecnico la praticabilità per 18 proposte. Di queste 18 due sono già arrivati sostanzialmente alla loro autorizzazione, quella di Montespertoli, che è per l'organico e che è in costruzione e si prevede la sua inaugurazione entro la fine dell'anno. Dall'altra parte l'impianto a Scarlino, che ha avuto valutazione positiva dalla conferenza dei servizi e dalla valutazione di impatto ambientale, quindi ha un iter chiaramente più spianato. Tra gli interventi giudicati e ammissibili c'è anche il progetto di reti ambiente per un digestore anaerobico per il trattamento dell'organico e la produzione di biometano da realizzare a massa. L'intervento non è rientrato però nei 18 per i quali sono avviate le procedure, in quanto non finanziato per mancanza di plafon. Con l'adozione da parte del Consiglio regionale si apre adesso l'iter di approvazione del piano, con la fase di presentazione delle osservazioni. È una visione che la Giunta prima e il Consiglio regionale poi nell'adottare questo piano vuol dare alla Toscana. Vogliamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti se abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interesse, capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2035, quindi insomma è lontano. Un piano, quello adottato dal Consiglio, che ha una serie di obiettivi ben definiti. È un piano che dà alcuni obiettivi importanti, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti. Quindi il lavoro che deve essere ancora fatto è quello anche di stimolare, di accompagnare dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale affinché in ogni territorio ci sia una dotazione impiantistica adeguata. Un voto, quello di mercoledì, arrivato dopo una lunga fase di preparazione iniziata a fine 2021. Ma Italia Via è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti, una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale, dove territori importanti come Siena, Rezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della piana fiorentina che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Prima della votazione sull'adozione, Fratelli d'Italia ha sollevato una questione pregiudiziale incentrata sulle problematiche di smaltimento dei rifiuti urbani nel lato centro. Un problema che è emerso anche in seguito nel corso del dibattito di merito sul piano nonostante la pregiudiziale sia stata respinta. Dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termovalorizzatore di case Passerini lato centro, che è quello dell'area metropolitana, si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti che vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa. Questa è la situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema. Non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti, non dice quasi nulla sulla riduzione che è il vero obiettivo e sul riciclo dei rifiuti. Decisamente negativo anche il giudizio della Lega. Il piano è un piano che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione. In secondo luogo c'è un impatto molto ideologico contrario ai termovalorizzatori ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico sono impianti poco conosciuti, non c'è una concreta fattibilità sul campo. La responsabile per la partecipazione ha messo in evidenza degli elementi dicendo che c'è il serio rischio che questo piano venga impugnato e che possa essere annullato. È un piano dei rifiuti che in realtà non risolverà il problema degli impianti nella nostra regione perché la volontà dell'assessore di portare avanti parallelamente al piano la manifestazione di interessi sugli impianti ha dimostrato che ad oggi neanche la metà di quegli impianti che erano stati prospettati, compreso quello fondamentale di Empoli per quanto riguarda lato centro, saranno realizzati. Quindi questo è il punto fondamentale che poi andrà a incidere anche indirettamente sulle tasche dei cittadini e sulle tariffe. Voto contrario anche da parte del Movimento 5 Stelle che ha attaccato la procedura dell'avviso pubblico e il progetto della Multi Utility. È un rovesciamento completo invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta e rifiuti ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo? Probabilmente niente o addirittura un peggioramento perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della Multi Utility e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. Sempre nel corso della seduta di mercoledì l'Aula ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato 2022 l'atto che racchiude i risultati economici patrimoniali complessivi della regione, del Consiglio regionale e di una cinquantina di entri tra controllate e partecipate. È un bilancio positivo, il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della capofila che è l'ente regione toscana. Ci parla il bilancio del fatto che la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi situazioni patrimoniali attivi e quindi questo ci conforta anche sul fatto che le risultanze dimostrano come anche in anni difficili nonostante l'invarianza della pressione tributaria i risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico di un'economia che nel 2022 è andata bene altro elemento che testimonia questo è il fatto che il gettito dai tributi regionali sono in indeciso aumento e qui sta anche un'attività forte che la regione ha avviato di recupero anche dell'evasione fiscale I partiti dell'opposizione hanno votato tutti contro con Fratelli d'Italia che ha evidenziato alcune importanti ombre che secondo gli esponenti del partito alleggerebbero sul bilancio C'è un risultato formalmente positivo ma c'è un patrimonio netto cioè la sostanza vera dell'aggruppamento negativo per circa 800 milioni in questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate vedi l'operazione di Fidi Toscana con la dismissione del capitale sociale vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le termine di Montecatini di cui la regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni vedi Firenze Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X l'ultima in ordine di tempo alla fondazione del Museo Peci a cui la regione toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro perché la gestione complessiva segna un segno meno negativo e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori tre percorsi uno da 64 uno da 54 e uno non competitivo da 25 chilometri 500 partecipanti in arrivo da tutto il mondo 5 comuni coinvolti è un compleanno con 30 candeline proprio come quelle del Parco Nazionale delle Feste Casentinesi sono questi i numeri della Casentino Bike la manifestazione per gli appassionati della bici fuori strada che si terrà domenica 8 ottobre questa splendida iniziativa che pensate è arrivata alla trentesima edizione quindi una sicura garanzia di storicità dell'iniziativa che peraltro dimostra di rinnovarsi tutti gli anni quest'anno ci sono dei percorsi nuovi che addirittura permetteranno di entrare nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi quindi rendiamoci conto quanto è splendido poter passare in mountain bike per questa iniziativa tant'è vero che ci sono circa 500 partecipanti e sono numeri notevoli fa parte della Coppa Toscana e in più possiamo dire che tutti arriveranno nel centro storico di Bibbiena che lasciatemi dire è uno dei più belli della nostra provincia di Arete e di tutta la Toscana Cuore della manifestazione il comune di Bibbiena che ospiterà partenza e arrivo delle tre corse è un territorio magnifico dal punto di vista naturalistico e soprattutto un territorio dove la bicicletta lo sport della bici sta andando molto bene molto forte anche perché il nostro è l'unico territorio in Toscana che ha visto completare tutta la ciclopista dell'Arno per noi è un onore un impegno da portare avanti insieme all'associazione a tutti i volontari che ringraziamo e chiaramente aspettiamo tutti gli iscritti che provengono da tutta Italia nel nostro territorio è il terzo anno che la Casentino Bike ha la propria partenza del proprio arrivo dentro il centro storico di Bibbiena questo ci ha permesso di dare un'offerta anche ai partecipanti che vadano oltre ovviamente un percorso meraviglioso all'interno dei nostri percorsi naturalistici del parco e non solo ma anche poter promuovere i nostri musei quello archeologico e quello della fotografia d'autore e il nostro punto informativo che per l'occasione organizzerà anche degli eventi collaterali per tutti gli accompagnatori dei partecipanti e per la trentesima edizione gli organizzatori hanno preparato alcune importanti novità ma le novità sono piuttosto piuttosto importanti per questa trentesima edizione abbiamo cambiato totalmente i percorsi abbiamo fatto percorsi completamente rinnovati inserendo anche un percorso marathon dove va a toccare quei sentieri quelli di quei tracciati dove il parco nazionale è da oltre 30 anni che non è permesso poterci accedere per eventi di questo tipo in deroga a questa cosa che abbiamo fatto quest'anno ci è stato consentito il passaggio per cui ne siamo molto orgogliosi e molto fieri di questa novità per questa edizione è tutto potete seguire le attività del consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.regione.toscana.it